Ciao e ben trovato, sono Daniele Cottino, alias Giacomo Saver, il direttore di segretibancari.com. Oggi voglio parlarti del primo dei sei fattori che determinano l'ammontare del tuo capitale e che è il risparmio. Il risparmio ha un ruolo fondamentale, è importante che tu entri nell'ottica di non smettere mai di accantonare una parte del tuo reddito per far crescere i tuoi investimenti. Risparmia più che puoi, inizia il prima che puoi e termina più tardi che puoi. Non esiste una quota minima di risparmio ottimale ma direi almeno 10% della tua disponibilità mensile. John Templeton addirittura riusciva a risparmiare metà del proprio reddito ma qua direi che siamo un po' borderline perché poi viene compromessa anche la qualità della vita presente. Però entra nell'abitudine di risparmiare e aumenta il tuo capitale investito attraverso flusso di denaro nuovo. Questo è un segreto che pochi conoscono ma che farà la differenza nei tuoi soldi. Continua a seguirmi nei prossimi video.